Pronto, pronto. Pronto, Antonella? Assomma, eri te prima al telefono? Adè, sei che minuti fa? No, ti metti a me te. No, perché ho sentito che non sono arrivato in te, perché credevo che fosse te. E la mamma, come la sta? La dorme. No, no, lascia dormire. Ah, lì, tutta la sua fiacca, lì, la pressione. Lì, la pressione bassa. Troppo il tannocchio, non è che troppo bassa. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. E te? Edo? E Burdella? Stai bene tutti? Eh, e la mamma, stai drì, eh? Dica al tuo mio genio che lì la scorda. No, non so, non so, non so. Dat buona Antonella. Salute. Sergio, assomma. Ma com'era, ti non conosci più? Assomma, e tu, fratello? Ma te da qua ci investiremmo in male l'aria, questa famiglia? Stavi meglio in collina, te. Ti ho detto, ti ho detto, ti ho messo il telefono a te dieci minuti fa? No, ti ho messo il telefono. No, ho messo il telefono di chi non ti prende l'aria, perché è una gran pezzo, se era in tre cantana, quando ho messo in un'altra giornata, quando ho messo, ho tirato da lì, e ho fatto che, ho creduto a te, e non è un bel po' che ne so. Oggi, prima con l'Antonella, ando, che rilasci la mette, hai ragione, voi miei lavori. Oggi potrebbe, eh, questa settimana, andare fu una sera tutti in sé. Questa settimana? una pezza. No, no, che pezza? Sommendo che non è. D' là dei fiumi. Ma il posto è un po' la mia moglie, ma lì, dall'Aberta. E in quel tempo, non c'è lì, 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 chi la trova. No, è una cosa un po' la rustica, dai. Ah, ma, avessi tutti, avessi fatto una festa, non c'è il burdele, la Francesca, la Sofia, Federico, la Tumoi, ci sono ben tutti. No, 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 un'altra roba, è una cucina come si è sempre mangiato, dai, dai, un po' di sussicce per finire, le sabaiono. Le sabaiono da una volta, eh! Ove, Marciala, che me mi scerano scorre, ti la lascia per me, puttam di re! Allora, stessa domanda, Sergio! Allora... Pronto Fabio? Lascio Davide. Ti lascio il comandante, ti mette il telefono di te in quatt'ora fa? No, te ti mette il telefono. Nienta, ti mette il telefono? Piattoschi, ma vale! Ah, ho chiesto, non è un gran momento, la Zantina è il baiocchè. Speriamo bene, eh? C'è l'ho... Porca boia. Pronto, Valentina? Scusa, sono Davide. Mi hai cercato te al telefono? 20 minuti fa? Non mi hai telefonato? No, perché ho sentito suonare, ho fatto una gran corsa. Pronto chi parla? Pronto con chi parlo? Pronto? Ma di là avevano già riattaccato. Allora non mi hai telefonato. Quando ce l'hai l'esame? Fra un mese? Ho paura di che? Dai, che sei brava. Poi, è un concorso interno, eh? In bocca al lupo, eh? Ciao, ciao, ciao. Pronto, Vezio? Gli, vedi, l'è una patacchetta. Mezz'ora fa l'esame, la sera ciotto in tre cantina. Lascio nei telefoni, ho fatto una gran corsa, ma ho nello fatto. Ho pensato che ci sia te. No, te te nemmeno a me. Qualcadun sarai te. Sì, lo so, è una curiosità. Piuttosto, vado a me che sai, te te si dimenti a mattina? Chi va? Ne vengono, Giorgio, Romano, quella Giuliana? Allora, serve da madmenga, dai. Sì, lo so, però bisogna andare. D'accordo. Pronto? Mario? No, scusa. Sì, Vio? Eh, no, ho messo il telefono, e te, un mezz'ora fa? No, perché c'era ciotto in tre cantina a fare le bocce? Ma che trebbiano? Bel te trebbiano? No, no, è San Giovese. Come non da sempre, ho messo tutti gli anni, ad amiciano tu. No, te te mi mette le fone? No, perché ho messo il telefono, e ho messo il telefono, e ho fatto una gran cursa, ma non l'ho fatta. Sì, che te la dà con una boccia, te la righello. Ne c'è due, sì. Salute. Pronto, Vio? Ti ho messo il telefono, che era bello un'ora fa? No, perché c'era ciotto che imbucceva, e tu, San Giovese. Stam, Vio, ti hai fatto un San Giovese. Allora, buono, ma stalle è venuto in un speciale. Allora, ho fatto una gran cursa, e di là vi ho messo anche qui, non so, ho messo il telefono a te, e ho messo il telefono a te, e ho detto che sia questa vecchia. No, a te te non ci sei. No, a te te non c'è. No, a te te non c'è. Non c'è nessun telefono a te, veste? Buona divina. Pronto, Mariela? Ti ho messo il telefono a te? Un'ora e mezza fa? Eh? Sì, che mi ho detto subito, questa è la d'esla, Mariela. Sì, che mi ho risposto per meglio dire, quando mi ho risposto, è che ti ho messo il telefono a te. No, a te te ne ho messo il telefono a te. No, perché mi ho detto subito, questa è la Mariela, perché ascoliamo più che la settimana d'andò a Pasqua a Viennes. Però io ero le fausto, non ero tanto convinto, ho detto che io per pensi. No, a me d'accordo, nel modo di me a Viennes non so mai stai. Vabbè, salutami il fausto, eh. Puttana mia. Precchiamo. Pronto, Rodolfo, stai per uscire? Guarda, lei un minuto, se ti ho messo il telefono a te, e te le ho messo il telefono a te. Vabbè, due ore in questo. Eh? No, a te te ne ho messo il telefono, eh? No, però, dato che i suoi metti mi avevi fatto che è scorso, ho detto che ci sia del novità. No, non è niente. No, 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 Rodolfo, te adesso non devi a pensare, non ti muovere, lascia chi fa salò. Te presi e ti andi via. No, no, perché all'altro ti intrecchiamo te, non c'è niente, me la suoneria, la teniamo i maschi, all'altro ti... Per carità, per carità, non ti trattengo, Rodolfo, vado, te andiamo a me, mi ricordi, pesla va, ma io lascio a comde. una biglietta adesso. Come si fa? Ed sarà, non savi niente, chi è che l'era, quel come aveva da dire. Ma sarà del patacchi, però fin tantane se, c'è la sopra la scala, ora che il telefono, ho fatto una gran cosa, tutto, 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 n'era nessuno. Chi è che puoi essere? Passa bella più o tre ore ormai? E che fatica ormai, a chi ti manda? Amo, hai metto poco, me. ha telefonato tutti. Se non è il caso, non siamo mai attenti. Quella è lei, che aveva 6-7 pagine, in due tre ore, è passato tutti. Solo che si dice bene telefonare, ma puoi essere detto. Non bisogna pensare bene, non puoi dire, scusa, è stata lei che ieri mi ha telefonato, e quello ti pone a rispondere a me. Io chi? Cosa? Chi è lei? Ma lei chi è? Ma che cosa vuole? Vuoi avermi telefonato? E poi ti pone a te pezzi, oh, io non vuoi avermi telefonato, ma mi tocca tanto a me rompere qua io, ma io telefono che mi pare. No, no, bisogna pensare bene, ecco, ma quando c'è, me lo dice, qui parla Renzi, se no è che è scattato. Però faccio finta sbagliare, c'è un par di Musconi, ed è pronto, qui parla Renzi, parlo con Rosati? No, qui è Musconi. Ah, mi scusi, ho sbagliato, è messo a posto. E poi c'è un par di Branducci, ed è pronto, qui è Renzi, parlo con Fornari? No, qui è Branducci. Ah, mi scusi, è messo a posto, non possiamo parlare. Però, mette che sia Branducci come faccio a me. Ma lei ha detto che è Renzi, ma Renzi chi? Renzi Davide? Ma che coincidenza, ieri, io è stato l'altro ieri, io l'ho cercato, per le volevo dire così, cosa ha, dopo lo spiego, te te risponde, dopo l'hai fatta. Che bupù, ma è tutta sta roba, la nemica è partita da me, ma non fa niente, ha suonato il telefono, e me vuoi sapere chi è ste, le ho mi dirette, perché in certo qualche modo qualcuno ha cercato di entrare in casa mia, e com'è, come non lo sape niente, mi dispiace, ma queste robe che qualcuno macchia a me, è un'altra dei. Dismo, te ci sei sicuro che quel cutaccio a me è stato l'altro ieri, e se non è stato l'altro ieri, può anche essere in teoria, ma per me è uno da qui, ma se non è da qui, allora con questi scorsi, se la mia nonna non spuggeva la mia nonna, la roba le faccio a prendere i presi, se non è stato l'altro, se non è stato l'altro ieri, con la mia sorella, con la mia amica, con i miei fratelli, però sono poche persone, con ogni stai intelletto, voi, se non temi tutti, dopo quando lo trovo, dopo se lo trovo, dopo se lo trovo, l'hai fatta, ma se ne trovo, abbiamo bisogno di tempo ai tempi, e voi come l'idea, che tutto qui non c'è nessun mistero, ma quale mistero, mandale, su una da qui, a mo' le da qui, una da qui, un po' di niti, nessuno, non ci sono delle prove, io sono da fede, gli telefoneri, che sono tante, è vero, sono urbane, non sarà una gran spesa, però è un impegno, poi me ha detto, non cura, ma siamo bravati, spiutami, però adesso, ha fatto tutto, sento il canzio, poi, avdire,